Ok, ok ragazzi, qua siamo in America, guardate qua le moto, è grandissima qua la strada, è una cosa pazzesca, saranno sei corsi a Pepe, c'è i camion che sono gigantesi, poi questa macchina è una favola che c'è il video davanti, c'è qui accanto il registratore, stereo che roba varia, saluta Giuliano, hi, Cristiano, hi, Cristiano è morto, vai hi Cristiano, ecco, hi, my mother, eh, my brother, Cristiano, è giuccio sopra te, c'è di tanto stereo pauroso, più una chiulla su in cima, che gigante, una favola qua, si, si, aspetta, Cristiano, a tutti i vali, si, aspetta, Cristiano, è giusto, è giusto.